La nascita di un'idea imprenditoriale è un processo complesso ma che può dare molte soddisfazioni. CNA ha infatti aperto un servizio molto specifico per creare e dare forma alla tua impresa. Siamo qui infatti per darvi un supporto sia a livello consulenziale mirato per la nascita della tua azienda ma anche un sostegno affinché le tue idee possano prendere forma. Naturalmente un supporto che riguarda anche l'ambito dell'agevolato di cui il nostro ufficio si occupa e che è l'iniziativa che la Regione Toscana ha messo in campo per creare le nuove imprese. La possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero per arrivare ad implementare ed acquisire sia beni strumentali che servizi e avere anche una piccola liquidità per attivare la tua azienda. Un finanziamento che può avere un importo massimo di 25.000 euro circa e che consentirà alla tua azienda di potersi sviluppare. È un intervento positivo che la Regione ha messo a disposizione delle start up affinché possano accedere al credito senza passare attraverso gli istituti bancari. Ti aspettiamo affinché noi possiamo darti il supporto necessario a far nascere la tua azienda.